Sì Ma ti... ti faccio male? Ma non pensavo che un colpo di martello uccidessi Uno solo Una martellata Ti fa male? Scusa Ciao Fabio Stiamo lì qua sopra Guardami Vai alle scale Vai alle scale Oh non mi vedi? Eh ci sono le scale Che mi vedi? Non so come ho fatto arrivarci Però ci sono riuscito Guarda questi ci stanno provando Guarda Regista mi prego Eccole mi è riuscito Regista